Oggi è la giornata internazionale per la libertà di stampa, proclamata il 3 maggio del 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma è molto più di una semplice ricorrenza. Nel corso dei secoli la libertà di espressione nel mondo ha fatto passi da gigante e oggi c'è sicuramente più libertà di esprimere la propria opinione che nel passato. Purtroppo però non si può dire che questo principio iscritto nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'articolo 19 sia pienamente recepito. Sono tanti, tantissimi giornalisti che ogni anno in varie parti del mondo vengono uccisi o perseguitati per le loro inchieste. Nel 2019, secondo il rapporto di Reporter San Frontier, che è un'organizzazione non governativa che promuove la libertà di informazione, 49 giornalisti sono stati uccisi e 400 sono stati incarcerati. Anche in Italia nel passato sono stati uccisi giornalisti importanti come Giuseppe Fava, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani, Giovanni Spampinato, Walter Tovaggi, solo per citarne alcuni, assassinati per le loro inchieste sulla mafia. E oggi in Italia ci sono 23 giornalisti sotto scorta. Nomi come Roberto Saviano, Federica Angeli, Paolo Borrometi, Sandro Ruotolo, Paolo Berizzi, solo per citarne alcuni, cronisti sotto protezione per le loro inchieste sulla mafia, sulla corruzione, sulle organizzazioni neofasciste. Minacciati da organizzazioni criminali e vittime di guarele intimidatorie che hanno il solo scopo di scoraggiarli dal fare il loro lavoro. E per questa ragione il loro lavoro quotidiano va difeso e va sostenuto. Un filosofo francese dell'Ottocento, Tocqueville, diceva che la democrazia è il potere di un popolo informato. Se vogliamo raffersare la democrazia a scortare i giornalisti minacciati in ogni parte del mondo dobbiamo essere noi stessi, dando visibilità alle loro inchieste e facendone di nuove, risperdendo al mittente le minacce di potenti che ci vorrebbero imbavagliati e sottomessi.